Un altro investimento mortale si è verificato sulla linea ferroviaria adrigatica, questa volta all'altezza del tratto pesarese Sottomonte, poco dopo Fosso Segiore. Secondo le prime risultanze a perdere la vita è stato Targhini Davide, di 32 anni, barista in un noto bar della città, residente a Pesaro. Il suo corpo martoriato è stato rinvenuto nello spazio tra un binario e l'altro alle 7.55 di questa mattina, dopo che il personale di un regionale proveniente da Ancona ha notato il corpo lungo l'interbinario, prima di entrare in stazione a Pesaro anche per la ridotta velocità che si tiene in quel tratto di linea. Una volta giunto in stazione ha fatto scattare l'allarme ed il regionale 12015 diretto ad Ancona, proveniente da Rimini, è rimasto fermo in stazione a Pesaro con 150 persone a bordo fino alle 8.40, predisposti naturalmente da Trenitalia Bus Navetta per continuare il percorso. Alle 8.10 sul posto della Sciagura sono arrivati anche i vigili del fuoco che assieme agli agenti della Polfer di Pesaro hanno eseguito i primi rilievi sul corpo, rinvenendo anche parte del suo abbigliamento e il documento d'identità. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che presenta alcuni punti ancora poco chiari. In certo anche il convoglio che ha investito l'uomo in un primo momento si è pensato ad un freccia bianca fermato a Rimini ma ha risultato poi tutto negativo. Forse potrebbe essere stato anche un treno merci ad investirlo prima delle luci dell'alba, ma siamo ancora nell'ambito delle ipotesi. Bocche cucite quindi da parte degli inquirenti, Polfer e della procura di Pesaro, ma sembrerebbe essersi trattato, per come è stato ritrovato il corpo dell'uomo, di un gesto volontario. Una volta accertata l'identità del 32enne, in mattinata sarebbero stati anche convocati i familiari della vittima per sondare le eventuali ragioni che potrebbero aver indotto il giovane ad un gesto simile. Ripercussioni e ritardi dei treni si sono susseguite nel corso della mattinata, la circolazione però è ripresa alle 9.55 dopo il nulla osta dell'autorità giudiziaria ed è progressivamente tornata alla normalità. La circolazione dei treni sulla linea Ancona-Rimini è stata sospesa dalle 7.55. Il treno co-regionale 12.015 Rimini-Ancona è ripartito poi alle 8.30 con un ritardo di circa 45 minuti. 11 treni coinvolti, 3 a lunga percorrenza, 3 regionali che hanno registrato ritardi fino a un'ora e 5 regionali limitati nel loro percorso. Grazie